Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro telegiornale è meno 11 alla scadenza del bando per la privatizzazione di Sogeal che come detto potrebbe essere messo da parte se le 27 non si presenterà alcun investitore. Ma intanto si guarda la prossima stagione estiva, Ryanair sembra voler confermare le rotte di quest'anno ma non escluso che queste aumentino soprattutto se arriveranno gli incentivi. In Alighiero stiamo discutendo con l'aeroporto e con l'autorità, le discussioni stanno procedendo in maniera molto positiva, stiamo aspettando di finalizzare quindi potrebbe essere che a breve, non so se qui a Bergamo o dove, ma potremmo dare qualche buon annuncio anche per Alighiero. Il nostro telegiornale è importante se il marketing manager di Ryanair pronunciato nei giorni scorsi a Bergamo in occasione della presentazione del nuovo collegamento per Belfast fanno ben sperare. Ma segnali positivi dalla compagnia irlandese erano già arrivati in precedenza con l'inserimento nella summer 2017 delle rotte presenti quest'estate con alcune frequenze aggiuntive. Certo non si tornerebbe ai livelli degli scorsi anni ma con un adeguato piano di incentivi la compagnia sarebbe pronta a potenziare la propria presenza. Intanto Ryanair ha annunciato il nuovo volo per Verona da Caglia e l'ulteriore segnale del fatto che il vettore low cost non intende lasciare la Sardegna. C'è anche un'altra compagnia però che potrebbe introdurre nuove rotte nell'aeroporto algherese. Si tratta di Volotea che in questi mesi ha collegato la rivera del Corallo con Genova, Venezia e Verona facendo registrare numeri interessanti. Nel corso di questi mesi infatti sono stati più di 14.000 passeggeri che hanno scelto la compagnia low cost per volare da e per Alighiero con un incremento del 235% rispetto allo stesso periodo del 2015. Un risultato che conferma il trend positivo registrato dalla compagnia anche a livello nazionale con un più 27%. Non vogliamo fermarci qui, fanno sapere dalla compagnia spagnola. Stiamo collaborando con il management dell'aeroporto per esplorare tutte le possibilità di sviluppo e possibili nuove rotte per i mesi a venire. A questo punto sembra inevitabile una conferma per i collegamenti con Genova, Venezia e Verona e non escluso che a questi se ne aggiungano altri senza dimenticare che anche Guizzer ha confermato le rotte già operate quest'estate. Cambiamo argomento, torniamo a parlare degli allagamenti e dei disagi in città provocati dal violento temporale abbattutosi nella notte tra mercoledì e giovedì. C'è da registrare l'intervento del vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, già ex sindaco di Alghero Marco Tedde che dice di utilizzare i vasconi di polmonazione e aggiunge stop alle chiacchiere per evitare allagamenti e scarichi a mare. Al netto delle polemiche circa i danni causati dagli allagamenti provocati dai due acquazioni estivi e sull'intasamento dei tombini provocato dalla scarsa pulizia, credo sia utile prestare attenzione al fatto che mentre la città si allaga e i reflui vengono scaricati in mare, i vasconi stanno a guardare. A scrivere il consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde che definendo una vulgata strumentale, quella di certa politica sostenuta dalla stampa questa organica, che cerche in modo maldestro di adebitare i vasconi di polmonazione realizzati da circa sei anni e mai utilizzati, la responsabilità dei recenti scarichi di liquami in mare, spiega come il nostro sistema di raccolta sia misto e quindi le condotte trasportano reflui e acque meteoriche come i più hanno oramai capito, quelli che l'attuale amministrazione impropriamente definiva vasconi di prime piogge, sono invece vasche di accumulo delle eccedenze. Vasconi peraltro spiega Tedde che risultano claudati e che a Banoa pare non avere preso in carico perché lo smaltimento del loro contenuto incrementa i costi gestionali del depuratore. Tedde entra nel dettaglio spiegando che tutti i reflui e le acque meteoriche della zona alta della città dovrebbero arrivare al vasconi di Piazza Sulis per poi essere pompati lungo la via 20 Settembre, fino all'incrocio con via Sant'Agostino e da lì giungere alla stazione di pompaggio del Mariotti, bypassando i bastioni, il centro storico e Bigagli. Ciò consentirebbe di evitare gli allagamenti del centro storico e gli scarichi a mare che hanno caratterizzato questa stagione bruttissima per l'ambiente cittadino. Dalla stazione di pompaggio del Mariotti vengono poi spinti verso Monte Agnese e da lì, per gravità, arrivano al depuratore di San Marco. Il vasconi del cimitero, prosegue Tedde, è invece un polmone di riserva che è alimentato dal vasconi di Piazza Sulis, allorché le portate sono sovrabbondanti. I vasconi di Piazzale della Pace di San Giovanni dovrebbero recuperare i reflui in eccesso di via Garibaldi, per evitare la fuoriuscita dei reflui dai chiusini stradali, con i conseguenti allagamenti che ne derivano. Allorché la situazione si stabilizza, le vasche si svuotano, remettendo i reflui accumulati in fognatura, e nel contempo si autopuliscono, in quanto al loro interno sono presenti dell'idro e gli ettori che ripuliscono il fondo vasca da risuidi di fango e non solo, spiega ancora. Lo scarico a mare posto in prossimità di via Carducci non è altro che lo scarico del vecchio canalone di raccolta delle acque meteoriche che inizia dal viale della Resistenza, percorre il primo tratto di viale Giovanni XXIII, fino a via Enaudi. La via Morandi fu la causa dell'allagamento del centro commerciale Ferroni nel 1992, ricorda ancora. Attraversa il cortile della scuola elementare Maria Immacolata, raggiunge la via Carducci e va a scaricare a mare in prossimità del cinema Miramare. Con raggiungere che, essendo intasata la vecchia condotta di scarico del vecchio depuratore Mariotti, situata presso il solaio, prosegue ancora Tedde, che fungeva anche da scarico di emergenza, viene utilizzato per tale scopo lo scarico posto nel molo di sottoflutto prospicente la spiaggia di San Giovanni, che provoca l'inquinamento del tratto di mare antistante da cui scaturiscono i divieti di balneazione. Se questo è il quadro, conclude Marco Tedde, emerge con nitidezza che è arrivata l'ora di smetterla con le chiacchiere e occorre immediatamente utilizzare i vasconi e predisporre un progetto per riparare la vecchia condotta di scarico del solaio. Ci fermiamo ora per una prima pausa pubblicitaria. Gli agenti del commissariato di Alghero hanno arrestato un 51enne della provincia di Cagliari per evasione. L'uomo è stato rintracciato da una pattuglia impegnata in servizio del controllo del territorio nella periferia della città. All'uomo, che si trovava rinchiuso nel carcere di Alghero, era stato concesso nei giorni scorsi dall'ufficio di sorveglianza di Sassari un permesso premio di tre giorni al fine di essere ospitato in regime di arresti domiciliari in una struttura di accoglienza dalla quale si poteva assentare solo per un paio d'ore al giorno. Una volta arrestato, il 51enne è stato nuovamente portato in carcere. E sempre per la cronaca, ieri nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 in Viale Europa una signora è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada pare sulle strisce pedonali. La donna, che ha avuto necessità, come potete vedere anche dalle immagini realizzate dal nostro Alessandro Spesso di essere soccorsa da un'ambulanza del polisoccorso giunta sul luogo dell'incidente è rimasta ferita e dolorante a terra e dopo le prime cure del caso è stata trasportata al pronto soccorso. Pare che l'urto sia stato abbastanza forte alla guida dell'auto un signore di mezza età. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale che hanno provveduto a eseguire i rilievi. E adesso parliamo di edilizia popolare perché da Sant'Anna fanno sapere che sono stati individuati sette appartamenti con il bando pubblico da 1,6 milioni. Dei sette immobili individuati dalla commissione esaminatrice, sei appartamenti dovranno essere costruiti entro 18 mesi da quando decorre il contratto mentre un appartamento è già disponibile per l'acquisto. Resta ancora la residua disponibilità di un finanziamento di circa 150.000 euro che l'amministrazione intende utilizzare con un ulteriore bando. La copertura finanziaria di 1,6 milioni è garantita dalla regione Sardegna a favore del comune di Alghero secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dal sindaco Mario Bruno nell'ambito del programma di iniziative per il contrasto dell'emergenza abitativa in città. Risposte concrete ad un problema che stiamo affrontando con la dovuta attenzione e priorità spiega il primo cittadino non solo con questa iniziativa ma anche con l'utilizzo di 3,6 milioni di euro accordati dall'amministrazione regionale per altri 28 alloggi e con altri imminenti interventi riguardanti la costruzione di circa 20 appartamenti a Caragol e ulteriori 20 alloggi a Carabuffas. Le abitazioni, secondo i requisiti principali individuati dalla Giunta, avranno una superficie utile non inferiore a 45 metri quadri e non superiore ai 95 metri quadri con una dotazione di impianti singoli e condominali. Il programma dell'amministrazione, spiega l'assessore alle politiche della casa Marisa Castellini, contiene iniziative fondamentali per riequilibrare lo sviluppo dell'offerta dell'edizia sociale in città. La grave crisi socio-economica degli ultimi tempi ha fatto sì che i casi relativi alle domande di contributo per gli affitti e le graduatori e per gli alloggi popolari siano in sensibile aumento, e su questo fronte, scrivono ancora da Sant'Anna, l'amministrazione comunale sta intervenendo per rispondere in modo risolutivo alla riduzione delle criticità. Delle innumerevoli problematiche legate ai bisogni che l'assessorato affronta ogni giorno, quello della casa rappresenta priorità assoluta sugli impegni assunti. Per quanto attiene alle procedure dell'invenduto, la fase dell'iter prevede l'aggiudicazione provvisoria, l'adozione delle deribili di consiglio comunale per l'autorizzazione dell'acquisizione degli immobili e le stipule dei contratti preliminari. L'impegno assunto dell'amministrazione è quello di ridurre con il ricorso ad ogni strategia possibile i tempi che consentiranno di dare risposte a coloro che da troppo tempo ormai attendono di vedere assolto il loro diritto alla casa. Giunto il momento di fare un altro break pubblicitario, tra poco. Ancora il servizio scuola, bus in primo piano, servizio che come ricordato dal Comune inizierà lunedì avvio slittato di qualche giorno a causa dei lavori di manutenzione sui mezzi in uso dell'amministrazione che sono stati opportunamente revisionati per l'utilizzo temporaneo in attesa che si sblocchi definitivamente il nuovo servizio con la decisione del TAR. C'è però, come detto anche ieri, un'altra questione in sospeso, quella riguardante tre lavoratori non confermati dalla nuova ditta. A tal proposito, le opposizioni in Consiglio Comunale hanno protocollato una risoluzione per impegnare il Consiglio e il Sindaco a trovare una soluzione per queste tre persone. Risoluzione fa sapere uno dei firmatari, Alessandro Nasone, scritta e presentata alla luce delle scarse rassicurazioni pervenutici da Sindaco e Assessore. Chiederemo di discuterla lunedì, in alternativa chiederemo un Consiglio Comunale ad hoc. Nella risoluzione i consiglieri del gruppo Misso, Forza Italia, PD, Movimento 5 Stelle e Nuovo Centrodestra esprimono forti perplessità relativamente al comportamento della ditta subentrante che scrivono non ha mai dichiarato le motivazioni che l'hanno spinta a non riassorbire due autisti e un assistente della ditta cessante. Gli undici esponenti di opposizione rimarcano poi, come nel capitolato d'appalto, l'articolo 7 lettera B tra gli obblighi della ditta subentrante ci sia anche in via prioritaria quello del trasferimento nel proprio organico del personale fino a quel momento occupato nella ditta cessante, la quale è a tutti gli effetti una clausola sociale di protezione dei dipendenti. Una parte dell'opposizione, nel caso specifico Nuovo Centrodestra, Pisdaz e Patuo Civico, critica nei confronti dell'amministrazione per un'altra questione, ossia la mancata celebrazione della Diada. Su questo era intervenuto tra l'altro nei giorni scorsi il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde e ora le tre forze politiche di opposizione rincarano la dose. Il risultato di rappresentanza della Generalitat è stata una grande e difficile conquista legata alla storia e alla cultura di Alghero, ma anche e forse soprattutto al futuro della città. Adesso non va sottovalutato il rischio di perderla a causa di una politica pressapochista fatta di immagine senza sostanza, senza idee e senza prospettiva. Lo sostengono in una nota Nuovo Centrodestra, Pisdaz e Patuo Civico, secondo i quali la mancata partecipazione di Alghero alla Diada è solo uno dei segnali di un disinteresse e di una trascuratezza grave. Un'amministrazione che anche in questo caso dimostra di trascurare il passato, il presente e il futuro senza avere la sensibilità per capire e apprezzare le enormi potenzialità che sono il più grande patrimonio della nostra città è un'amministrazione che va sollecitata a svolgere il suo ruolo e ad assumersi le responsabilità le quali è stata chiamata, scrivono le tre forze politiche, denunciando come sin dal periodo della sua apertura nel 2009 ci fu chi d'Alghero lavorò senza riuscirci per convincere il governo catalano ad aprire la sede a Cagliari piuttosto che ad Alghero e oggi sembra ci sia chi lavora per farla chiudere per inattività. Invece, proseguono Patto Civico, NCD e Pisdaz non si può non coltivare con attenzione e dedizione la straordinaria opportunità offerta da un rapporto così stretto e diretto con il governo di una nazione di oltre 9 milioni di abitanti che vede nella nostra città parte delle sue stesse radici storiche e culturali e che con essa vuole fortemente avere un rapporto privilegiato. Eppure, sono così evidenti i vantaggi che possiamo trarre dalla presenza di questa istituzione. Alghero, grazie a questi rapporti, si è seduta con pari dignità a tavoli di programmazione culturale ed economica con i presidenti della Catalogna, delle Baleari, di Andorra, della provincia di Perpignan. Siamo considerati parte integrante di una comunità che ha una forte identità, un grande orgoglio e che ha voglia di costruire un grande futuro. Farne parte deve essere una priorità, soprattutto per rispetto di noi stessi, della nostra storia, della nostra identità linguistica e culturale ed insieme per l'enorme potenzialità di sviluppo che possiamo trarne. Se ci fosse la lungimiranza che servirebbe, rimarcano le tre forze di opposizione. Alghiera dovrebbe svolgere il ruolo di cerniera tra la Catalunia e la Sardegna in un rapporto virtuoso dal quale entrambe le comunità possano trarre vantaggio ed occasioni di sviluppo. Invece, chiudiamo le rotere con la Catalunia e ci isoliamo e quindi ci impoveriamo a causa di una politica miope e dannosa. Le amministrazioni comunali concludono, piuttosto che girarsi dall'altra parte dicendo io non centro, al dovere di tutelare e valorizzare la presenza della rappresentanza della Generalità Tadalghero, coltivando rapporti istituzionali costruiti e consolidati nel tempo, cogliendo quelle opportunità che servono per far crescere la nostra comunità. Ci fermiamo ancora per qualche suggerimento pubblicitario. Questo pomeriggio alle 18 nella sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte si terrà la presentazione ufficiale di tre monografie frutto del corposo e complesso lavoro di recupero archivistico della memoria del ventennio carcerario della colonia agricola. I tre libri intitolati Le carte liberate, la colonia penale di Porto Conte e un secolo di bonifica umana saranno presentati dagli stessi autori Vittorio Gazzale, Giorgio Peghin e Stefano Alberto Tedde. A introdurre la serata sarà il presidente del Parco di Porto Conte Antonio Farris mentre il ruolo di moderatore sarà affidato al direttore del Parco Mariano Mariani. Al termine della presentazione si terrà un'esibizione del cantautore Piero Marras che eseguirà brani sul tema della vita carceraria di Tramariglio e dei suoi protagonisti. E come consuetudine da qualche anno a questa parte a settembre la Dinamo doveva essere presentata da autorità e sponsor nelle tenute Sella e Mosca. L'evento in programma ieri invece è stato spostato al Teatro Civico di Sassari a causa delle avverse condizioni meteo a fare gli onori di casa è stato comunque Antonio Posadino responsabile delle relazioni esterne di Sella e Mosca che ha chiamato sul palco la madrina della serata Elisabetta Canalis l'attrice su Brett insieme al presidente Stefano Sardara dopo aver dato la parola alle varie autorità tra i quali il sindaco di Sassari Nicola Sarna e l'assessore regionale Francesco Moranni hanno fatto salire sul palco i rappresentanti dei vari main sponsor e ovviamente staff tecnico e squadra che avete visto nella foto assieme a Elisabetta Canalis quindi in chiusura svelata la maglia da gioco per la stagione 2016-2017 che partirà il 3 ottobre con la prima giornata di Serie A contro Varese e con il basket e con la Dinamo chiudiamo l'edizione odierna del nostro telegiornale ora spazio al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti